Un secolo fa Pavia distrusse la maggior parte delle sue fortificazioni costruite dagli spagnoli poco dopo il 1550 e che costituivano un capolavoro di arte militare. Attualmente alcuni tratti di tali fortificazioni rimangono visibili, benché notevolmente ridotti in altezza. Vediamo alcuni esempi. In verde vediamo mura, bastioni e baluardi che non richiedono particolari interventi. In viola elementi recuperabili architettonicamente. E comunque non in pericolo strutturale. In arancione porta calcinara, che richiederebbe una manutenzione straordinaria. E in rosso il baluardo di Sant'Epifanio in Viale Gorizia, oggetto della nostra proposta di recupero strutturale. Salviamo l'ultimo baluardo delle mura spagnole, il baluardo di Sant'Epifanio a metà di Viale Gorizia. La nostra proposta, numero 18, prevede l'eliminazione delle piante infestanti sia alla base sia sulle pareti mattoni, con una verifica della solidità della struttura stessa. In pratica, mettere il baluardo in condizioni di sicurezza. Sarebbe l'anticamera per avvicinarsi ad un auspicabile futuro restauro, ripristinando l'accessibilità al camminamento superiore e agli interrati locali di artiglieria per poterli utilizzare per un museo di arte militare del periodo di vita delle mura stesse, dal 1500 al 1700. La nostra città si arricchirebbe di un gioiello storico architettonico di notevole richiamo turistico. Salviamo l'ultimo baluardo delle mura spagnole, votiamo il progetto numero 18 per recuperare storia e cultura della nostra amata pavia.